eccoci qua dunque allora incominciamo a vedere allora ragazzi seguitemi ok perché il mio scopo è quello anche di aiutarvi a imparare a leggere a scandire bene le parole che hai il mio scopo è principalmente di imparare a pronunciare bene l'Italiano quindi è meglio che iniziamo a riparare le parole anche con le parole quindi voglio che mi seguite anche in leggere magari posso capire che è abbastanza abbastanza ma è importante capire come le fonetiche, come i suoni, i vowels, i consonanti e così on, funzionano nell'Italiano, ok? So I want to do it in a very practical way and useful way, whatever we need, tutto quello che ci serve quando veniamo in Italia e vogliamo girare un po' per le bellezze d'Italia, ok? Quindi, don't take for granted, don't give for granted that these things are very basically or low profile or useless, no, because really I think we have to start from this, ok? Allora, al momento i prezzi sono bassi, at the moment the prices are low, ok? Ovvero, 19 euro, ovvero, diciamo, è un'espressione molto comune in italiano, ok? Che usiamo let's say, ok? Like you translate in English, ovvero means to say, let's say 19 euro in meno del less than, in meno del less than usual for your selected dates, ok? Train Italia, Train Italia, ragazzi, people from all over the world, like I call the ragazzi boys, ok? It's nice to feel young at any age, ok? I'm 56, so I can relate to... Train Italia is one of the two main train lines, train companies in Italy, ok? Quindi, Train Italia e Italo, queste sono, ricordatevi, quando venite in Italia dovete prendere il treno, when you come to Italy and you have to ride the train, you have basically two main companies, Train Italia and Italo, ok? In questo caso, Train Italia ci dà per andare, andata e ritorno, ok? Round trip, in italiano noi traduciamo andata, go, and return, go and back, that's what you in English you translate round trip, go and back, 35 euro, ok? 35 euro, Train Italia, treno, train, uno scalo, one stop over, so, quindi ricordatevi, when you read the scalo means stop over, ok? 5 ore e 32 minuti, 5 hours, 32 minutes, andata e ritorno, Train Italia, another one, another option, 2 stop overs, 2 scali, 6 ore e 1 minuto, andata e ritorno, 41 euro, 41 euro. Questo with the ITA, is a new, yeah, with one stop over, 3 ore e 3 hours, 55 minutes, Napoli, Florence, FLR is Florence, ok, andata e ritorno, visualizza boli, these are, there are also the flights, sojourning, stays, staying, dal 7 al 13 luglio, from 7 to 13, 13 July, 6 nights, 6 nights, hotel, average in media, ricordatevi, remember, in media, average price per night, 122 euro, 122 euro per night, ok, on a 3 stars hotel, ok, B&B, break and breakfast, bed and breakfast hotel, Firenze, Nuovo Palazzo di Giustizia, 3.9 star, 3,9 stelle, 1.702 recensioni, reviews, 64 euro a notte, 64 euro per night. Ok, guys, it's enough for today, short videos, but, you know, can be useful tips and tricks for traveling in Italy safely, ok, ciao a tutti, see you on next, bye!